Quanta nostalgia per la televisione di una volta! Per quanti nuovi spettacoli si possano ideare, il ricordo di certe trasmissioni resta indelebile. Proprio per questo la compagnia, ormai quasi stabile, diretta da Rosanna Amati, ha scelto i varietà degli anni 60, i telefilm degli anni 80 e gran parte dei programmi storici della televisione italiana per l'edizione 2011 dello spettacolo di Beneficenza ideato da Mariellina Lorusso Ciparoli. Oltre 100 attori non professionisti hanno dato vita sul palco del Teatro Piccini di Bari a una serie di scene sul tema musica, ricordi e fantasia, con l'attrice Carmela Vincenti a fare da cerniera tra le parti. Il ricavato della serata è stato devoluto alla comunità terapeutica Bene a Mino Lorusso Ciparoli, nata negli anni 70 come una struttura dedicata a bambini e giovani e diventata nel 1983 un centro per il recupero dei tossicodipendenti, anche adulti e di alcolisti. La dimostrazione di quanto una risata faccia del bene in ogni senso.